E adesso invece cari amici è il momento di collegarci con Milano perché oggi torniamo a parlare di danza, una delle eccellenze italiane nel mondo e una di queste etual è in collegamento con noi proprio da Milano. Allora scopriamola insieme grazie a questo servizio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Benvenuti ragazzi, vi do del tuo. Grazie. Grazie, grazie dell'invito, è un piacere. Allora raccontatemi innanzitutto come è la situazione lì a Milano che è una delle zone, insomma tutta la Lombardia, questa regione più colpita dal coronavirus. Sì, infatti è un periodo molto brutto, ci sono persone, nostri conoscenti insomma che si sono ammalati, dunque come dire cerchiamo... è una zona caldissima questa. Io vorrei dire anzi, vorrei mandare un pensiero a tutte quelle persone e alle famiglie che hanno perso dei cari, anziani e giovani. Cioè, veramente ha colpito tutti questa pandemia, questo virus. E noi siamo confinati in casa come la maggior parte di tutti gli italiani già da due mesi praticamente. Anche dei vostri colleghi si sono ammalati? Ma no, colleghi che noi... colleghi no, però conoscenti sì, persone che noi conosciamo sì. Sì, sì, è brutto, è brutto, sì, non c'è da scherzare, ovviamente come tutte queste pandemie, insomma non c'è niente da... bisogna stare attentissimi e riniziare sì, sì, c'è la possibilità di riniziare però con criterio e con... Con responsabilità. Con responsabilità. Esattamente. Allora, parliamo però di cose belle, come la danza. Sabrina, raccontaci quando è che hai capito che la danza sarebbe stata la tua vita? Quando e come è iniziata questa passione? Allora, la mia passione è nata appena sono nata, perché già da subito la mia mamma ha visto delle dotte, particolari, cioè questi piedi molto arcati, questa apertura di anche esagerate, quindi insomma, ecco mi diceva, farà la ballerina, infatti è successo così. Tra l'altro, dalle immagini che stiamo vedendo, tu non fai solamente danza classica? Tutto ciò che è arte, secondo me, è bellissimo, è un arricchimento per l'anima e anche per la persona, ecco, per una ballerina. Secondo me tutti dovremmo fare classico, contemporaneo, moderno, sperimentare insomma. La curiosità è in fondo la passione della vita, no? In tutti i settori, tra l'altro, in tutti i lavori. Andrea, ma al di là delle tecniche, che definizione daresti alla danza? Eh beh, è un'espressione sublime, nel senso che penso che l'arte della danza è un misto, un insieme di tante sfumature, al di là del movimento, che può essere appunto contemporaneo, neoclassico, classico, ma c'è anche l'espressione del viso, gli occhi, cioè il pubblico ha bisogno e vuole vedere una storia, no? Il ballerino deve dare con il suo corpo e i suoi movimenti un messaggio. Sabrina, l'Italia ha esportato tantissime etois nel mondo, secondo te c'è un modo di ballare italiano? Sì, abbiamo una caratteristica noi italiani, la passione appunto, balliamo con passione, l'espressione, l'anima più sensibile con l'arte. Voi prima del lockdown avevate portato in scena uno spettacolo, tra l'altro decisamente autobiografico, La mia vita d'artista. Ci raccontate brevemente di che spettacolo si tratta, anche perché io spero, mi auguro che lo possiate riprendere al più presto. Beh sì, diciamo che siamo riusciti a portarlo in scena e siamo riusciti a fare degli spettacoli, tre spettacoli al Teatro Carcano di Milano e uno era proprio per le scuole, perché questo spettacolo ha come messaggio principale il tema della dislessia. Diciamo che grazie anche all'aiuto di persone a noi vicine, molto care, tra cui Salvo Manganaro, che voglio nominare, una persona straordinaria, siamo riusciti a fare in modo che Sabrina si esponesse perché riguarda Sabrina. E' un po' dislessica e quindi è stata dura perché per convincermi, cioè per me è sempre stato, doveva essere un segreto, era un segreto, è una vergogna, no? Perché insomma da piccola non poter leggere, non poter scrivere, cioè non sapere, ecco, far fatica, insomma era un po' una vergogna, no? E' stata difficile farla venire fuori da questa corazza perché esporsi è sempre un po', sai, è un problema, ci si pensa sempre due volte. Quindi alla fine ce l'abbiamo fatta con molta calma e siamo riusciti a mettere su questo spettacolo che fa vedere veramente il lato di Sabrina da artista dislessica ma con grande duttilità, veramente molto eclettica, fa di tutto, fa addirittura anche il tip-tap, la danza acrobatica con i cataclò. Ma quindi la danza, Sabrina la danza per te è stata terapeutica? Sì, sì sì, assolutamente, io ho potuto dialogare già da piccolina non con le parole ma col movimento, con i gesti e quindi per me è stata la vita, ecco, la danza per me. Certo, e questo è un bellissimo messaggio per chi, e sono tanti che hanno questo tipo di problema, ecco, un'ultima cosa, un consiglio che vi sentite di dare a tutti gli aspiranti ballerini che ci stanno seguendo, insomma molti in tutto il mondo sono a casa, quindi anche i nostri telespettatori sono tanti, ma anche ai genitori perché a volte, mi viene da dire, questa passione dei bambini è più una passione dei genitori che in qualche modo vogliono trasmettere ai figli, ma non sempre è una passione anche dei figli. Beh, questo adesso non è più così, perché una volta era, adesso invece sono proprio tanti i ragazzi che seguono la danza e amano la danza e vorrebbero diventare ballerini professionisti, quindi una volta i genitori... Diciamo che le percentuali che un genitore spinga il proprio figlio a fare il ballerino veramente sono molto basse oggi, invece appunto come diceva Sabrina i ragazzi molto più spesso chiedono alle proprie famiglie di iniziare a danzare e le famiglie sono da elogiare perché sostenere un ragazzo per studiare otto anni in una scuola, in un'accademia, insomma, e intraprendere questo percorso per le famiglie è molto difficile, quindi sono da ammirare questi genitori e c'è da dire anche che bisognerebbe dare comunque un futuro a questi ragazzi che poi vogliono diventare dei professionisti, quindi un lavoro, un teatro che li possa accogliere con un corpo di ballo, quindi quello che manca oggi credo che non sono tanto le scuole di danza, sono tantissime e questo è un bene. E anche i talenti ce ne sono tanti, perché adesso sono veramente bravi i ragazzi a ballare. Anche perché la danza, lo sapete meglio di me, anche attraverso la televisione sta diventando sempre più pop, più popolare, vediamo appunto programmi televisivi in cui si balla oppure si insegna a ballare. È giustissimo, bisogna però poi andare in teatro a vedere spettacoli, quello perché il ballerino per tutta la vita è in teatro, quindi... Poi vorrei dire un'altra cosa, che io e Sabrina a un certo punto della nostra carriera abbiamo deciso di dedicarci ai giovani e quindi di dare una possibilità professionale sia ai ragazzi che finiscono i loro anni in scuola, sia a quelli anche più giovani. Abbiamo fondato una compagnia che è la Jazz Art Ballet, vorrei dirlo, e anche un programma che è Jazz Art Ballet Junior, che dà possibilità di formazione e perfezionamento a dei ragazzi un po' più giovani. Quindi noi abbiamo deciso di fare questo oggi. È una vocazione che sentite questa, mi sembra di capire. Io ringrazio molto Sabrina Brazio e Andrea Volpi in testa per essere stati con noi, in bocca al lupo per tutto, magari tornerete a trovarci per raccontarci ancora di più del vostro spettacolo e della vostra missione. Grazie ancora, forza, teniamo duro! Grazie mille, assolutamente! E ritorneremo più forti di prima!